E' una partita importantissima, una partita fondamentale, una partita molto difficile perché non ci sarà un domani e quindi nella complessità della partita c'è la semplicità di sapere che dobbiamo assolutamente vincere. In due game contro Real Madrid, I think Juventus ha stato stato bene come Real Madrid e in la ligazione sono già topo dopo Roma truva l'ultima notte, quindi probabilmente sono più forti, ma dovremmo essere più forti. All'in tutto Juventus è più forti, con Lorenzo e la formazione ha migliorato i ultimi 5 settori 6 settori. Ogni partita che gioco mi sento meglio, è quello che è importante, lo che mi piace in più è aiutare la squadra ogni volta che gioco e questo è lo che serve adesso. Fernando è un calciatore completo, un giocatore moderno, che non è il tipico centravanti d'aria che bisogna fargli arrivare solamente ai palloni. E' un calciatore che fraseggia, un calciatore che attacca la profondità, un calciatore che serve l'assist. Gran parte del merito sta a lui, però dico anche che lui ha ampi margini di miglioramento. Credo che qui sto facendo un bel lavoro e credo che ancora posso migliorare molto. È un calciatore, un calciatore a tutti gli Sprengoli e a tutti gli spessi, ci sono un calciatore. Come si possono spiegare un bel lavoro? ma abbiamo il più grande rispetto. Abbiamo visto i giocatori di casa contro Galatasaray e Real Madrid e sono stati la migliore squadra nei giocatori di casa. Anzi sono stati molto semplici in questo gruppo. Quindi, spero che questo continui avanti. Partite comunque con grandi pressioni, con grande responsabilità. Siamo alla Juventus, lo sappiamo, domani sarà una partita di queste. Dovremmo essere bravi a vincerla.